Ma qui siamo già spruzzanti, guardate quanti pro rider, EVS Eccolo, attenzione, attenzione, tabellina gialla numero 99 Amma mia, special guest La clandestina, la clandestina Mi fermo Ah Eeeh 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 Oh Grande dammi Oh dammi Oh Grande dammi Ciao 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 Che fa? 5.50 I tiri Signori, dietro al manubrio Anche questo oggi Wuh Salutate ragazzi Vai vai salutate Su staritto L'abbraccio caro peggio No no E' da più corto quello abbraccio Ed impressioni a caldo qui ragazzi No è rubato, è rubato tutta la sera È rubato è rubato è rubato Concentratissimo Yeah boy Concentrati Andiamo a vedere questa PS1 Questa è più entristica Che pugnetta che c'è Cioè io c'ho dietro No no 5 4 3 2 1 Via Young man! Con due Nicola, ragazzi, come è partito? Il video vi riprende sempre. Bravi top rider, bravi top rider. Che ripresa da pro che ti ho fatto. Io parlo con nessuno, ciao! Ciao, ciao! Gli elettrici davanti! Bravi, bravi ragazzi. Ok, 50. Vincere Damiano. Ci siamo! 5, 4, 3, 2, 1... Tiro! ... 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 oh stop my door stop my door stop my door tirata per il rotto della cuffia sta cazzo di contropendenza veramente qui non si può lasciare non si può lasciare bravo la 2 è molto bella questa qui la 3 ha anche l'area 51 mi deve seguire ok 50 miscia Damiano 5 4 3 2 1 via via oh man non si può lasciare non si può lasciare Aller! 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 Due aereo? Sì! 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 Scusa! È con me! È con me! È con me! Sì! 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 Grazie a tutti.